Ciao ragazzi, finita questa Africa Race veramente impegnativa e lunga, 7.000 km da Monaco a Dakar, passando a Marocco, Mauritania e Senegal, veramente impegnativa. Cosa ho da dire, ho fatto secondo, ho battagliato fino all'ultimo metro per la vittoria, ha vinto Jacopo Ceruti con Aprilia e veramente noi tre, anche i miei compagni, abbiamo ottenuto un ritmo altissimo per tutta la gara, e alla fine ci siamo divisi la vittoria per 6 minuti e 38 con 6 minuti di penalità, che ho preso al penultimo giorno per eccesso di velocità di un spellibile. Cosa dire, contento perché alla fine ho tenuto bada ancora ai giovanotti, contento perché sono ancora competitivo, contento perché è sempre la soddisfazione arrivare sul Lago Rosa a Dakar. Oh, grazie mille che mi seguite, perché noi bresciani siamo di una pasta differente.